Mancano solamente poche ore alla partenza di Insuperabile. La staffetta dell'inclusione affirma 100% Bresciana che mediante 25 giorni di cammino porterà i partecipanti da Proceno alle porte di Roma per poi passare da Spoleto a Sisi, città di Castello, fino alle pendici dell'Appennino al santuario della Verna percorrendo la via Francigena. Un progetto sino strano ma che si riconferma in grado di coinvolgere associazioni e realtà da tutto il territorio nazionale, isole comprese. Insuperabile nasce infatti da un'idea del dottor Gabriele Rosa con le associazioni LAMU, Liber Accademia del Movimento Utile e ASD Rosa Running Team, grazie alla collaborazione di Se vuoi puoi e Pedalabile. Forte dell'esperienza maturata nel 2021 lungo la via Francigena, il progetto ha saputo attirare per il 2022 molti gruppi di persone con diverse fragilità, patologie e disabilità che seguiranno a passo lento le vie legate alla memoria del Santo di Assisi, passandosi un simbolico testimone di speranza, rinascita e di nuove aperture verso l'indipendenza, l'autosufficienza e la fiducia in se stessi. Tra queste l'Associazione Aule di Versamento di V, progetto Filippi della cooperativa sociale Lavorare Insieme e la cooperativa San Martino. Una camminata che si pronuncia ricca di incontri e momenti di confronto tra i camminatori e le istituzioni locali che, come già successo nella precedente edizione, desiderano accogliere l'importanza di questo profondo messaggio di inclusione e solidarietà, aprendo le porte dei propri comuni e borghi al dialogo. Tra gli incontri il più importante sarà certamente quello con Papa Francesco in Vaticano, che saluterà l'avvenuto traguardo dei camminatori.